19 anni di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, proprio come il protagonista di un altro grande successo letterario dedicato alla diversità intitolato se ti abbraccio non avere paura di Fulvio Ervas. Si chiama Giacomo Mazzariol, la sua fatica letteraria, mio fratello rincorre i dinosauri, storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più, è stato protagonista del penultimo appuntamento di incontri con l'autore e con il vino a Lignano Pineta, lungo il litorale adriatico udinese, a cui è stata abbinata la degustazione di prodotti di un'azienda vinicola di Corno di Rosazzo, area enologica mitologica. E niente, si può dire che è la storia di un ragazzo che è mio fratello che impara che se non butta via i soldi quando prende il resto per il gelato non è poi così male, invece un fratello che impara che la vita è troppo breve per seguire il giudizio degli altri e che ognuno è un genio in quello che fa, ognuno al suo modo è un genio e non c'è nessuna persona stupida in questo mondo e quindi la verità che pensavo di avere io, di possedere in realtà è sparsa in giro per tutte le persone di questo mondo.